Cari amici, oggi vi parlo di immigrazione e lo faccio partire da un libro decisamente anticonformista che si intitola La strana morte dell'Europa, l'ha scritto in inglese Douglas Murray ed è edito in Italia da Neri Pozza. Questo libro in sostanza tratta della crisi di identità europea e la mette in relazione con l'immigrazione di massa e in particolare con l'immigrazione islamica che è quella più difficile da integrare. Nei capitoli centrali l'autore sfata i quattro miti, i quattro luoghi comuni che ascoltiamo sempre quando si trattano questi temi. Il primo luogo comune è che gli immigrati sono una risorsa economica della quale non possiamo fare a meno. L'autore mostra dati alla mano che questo non è vero, si sofferma in particolare su un tema molto interessante, cioè l'immigrato quando arriva nel paese che lo ospita, in Italia, inizia a godere di tutti i servizi dello Stato sociale, servizi che ovviamente non ha potuto pagare. Il secondo mito sfatato dalla strana morte dell'Europa è che la cultura degli immigrati completi e migliori la nostra. Ora, conoscere una cultura diversa dalla nostra è indubbiamente una forma di arricchimento, ma se parliamo di immigrazione allora questo è vero solo se i numeri dell'immigrazione sono contenuti, perché se invece sfuggono di mano, presto o tardi ti trovi a fare i conti, come ad esempio succede in Inghilterra, con degli aspetti spiacevoli, per noi inaccettabili, delle altre culture. In Inghilterra ad esempio c'è la questione delle corti islamiche e della sharia, cioè di tribunali che non hanno niente a che vedere con i tribunali dello Stato, che applicano la sharia e non la legge dello Stato, ma poi ci sono altri temi come la sottomissione delle donne, il disprezzo per gli omosessuali, tutte cose che per noi sono inaccettabili. Il terzo mito sarebbe che l'esodo è inarrestabile, ma questo ci fa vedere il libro e non è assolutamente vero. Innanzitutto per fermare l'esodo bisognerebbe prima, per dire che l'esodo è inarrestabile, bisognerebbe prima provare ad arrestarlo, cosa che l'Europa non fa abbandonando i paesi di frontiera come l'Italia a se stessi. Il libro elenca alcune misure che vanno dagli accordi tra i paesi, investimenti nei paesi da cui partono le masse, insomma qualcosa da fare ci sarebbe, ma l'Europa ha rinunciato a farlo. I politici hanno creato l'emergenza e adesso non essendo capaci di risolverla ci vengono a dire che è un movimento epocale, che non possiamo fare niente. Il quarto mito che questo libro mette in discussione è il fatto che gli immigrati ci pagano le pensioni. No, non pagano le pensioni a noi, pagano le pensioni a se stessi, perché gli immigrati come tutti invecchiano e quando invecchiano chiedono come tutti la pensione e la ottengono come tutti giustamente. Questo implica che nell'immediato si risolve il problema, ma in realtà non solo non lo si risolve, ma si aggrava ulteriormente perché nella generazione successiva dovrà importare ancora i immigrati per pagare la pensione a tutti. ma insomma questo schema è una specie di gioco piramidale che non ha alcun senso, non risolve. Chi confuta queste quattro tesi, cioè questi quattro luoghi comuni, è normalmente additato come xenofobo, razzista, fascista, le solite cose, ma in realtà gli argomenti di morre sono degli argomenti di buon senso che sono tipici della destra conservatrice inglese.